Grazie per l'ospitalità. Mi piace dire che non è vero che è la prima volta che vengo qua a Catanzaro perché io sono molto affezionato a questa università, ne conosco i soci fondatori di un bel po' di anni fa ed ero molto legato a svariate persone che hanno contribuito a crearla. Questa università chiaramente è una perla, direi, nell'ambito delle università italiane, non fosse altro per la sua collocazione geografica che porta giovani verso questa zona a formarsi e a fare alta formazione, che porta ricercatori verso questa area a fare ricerca e innovazione e che ha la grande forza di mantenere giovani della Calabria che erano abituati invece a migrare necessariamente al nord per la maggior parte e qualcuno forse andava anche in Sicilia per raggiungere il titolo di laurea. Detto questo, in questo momento il sistema universitario italiano non sta bene, non sta bene però oserei dire come in primis perché purtroppo il nostro sistema paese non è in questo momento in piena salute. I vari governi che si sono succeduti negli ultimi tempi stanno facendo di tutto per migliorare la situazione e speriamo di essere, come ha detto proprio in questi giorni, il governatore della Banca Europea Mario Draghi che tra l'altro è un nostro concittadino italiano, che stiamo uscendo, però obiettivamente il nostro sistema paese è in complicazione. Il sistema universitario italiano ricordo che è quasi millenario come datazione, è un'istituzione che ha, io dico sempre la battuta che è l'istituzione in italiano e poi anziana a parte della Chiesa Cattolica. Quindi insomma, diciamo che, però indubbiamente questo è da un altro punto di vista anche un problema perché chiaramente con una tradizione così lunga si fa fatica a sganciare certi comportamenti, certi modi di essere e certe abitudini che si sono affastellate veramente nei secoli. L'università italiana ha una tradizione fondamentale che è unica e che la rende unica e che la rende migliore quasi di tutti gli altri sistemi universitari, lo posso dire essendo allo stato in almeno 4-5 sistemi universitari dentro, non vestito da fuori, dentro, inglese, tedesco, francese, spagnolo e americano e avendo visto come funziona. La nostra grande privilegio è di dare ai nostri studenti moltissima capacità di sapere critico, cioè quello che ti consente nella vita adulta di essere poi uno che non solo impara, non solo sa fare, non solo riesce a conoscere, ma il sapere e il saper essere che sono cose fondamentali. Il saper fare l'università degli anni invece lo insegna di meno. E' un po' meno professionalizzante di altre. Io dico sempre che la professione si può imparare anche dopo se hai un numero di nozioni sufficienti, però indubbiamente dobbiamo su questo cambiare. Dobbiamo inoltre cambiare la mentalità che esiste, diffusa, che studiare sia una perdita di tempo. Dobbiamo stimolare i giovani verso questa conoscenza, perché è un patrimonio, è un ascensore sociale che uno lo guadagna tra i 18 e i 25 anni e non lo guadagnerà mai più. Dobbiamo convincere il sistema paese e qui anche la politica, devo dire, che innovazione e sviluppo sono dei beni assolutamente imprescindibili. E la ricerca cosiddetta di base, quindi quella libera, cosiddetta serendipity, che consente di fare i grandi balzi si può ottenere solamente nei grandi laboratori, nei grandi centri di università. Certo, non tutti i finanziamenti della ricerca possono essere dedicati alla ricerca libera, ci sono le cosiddette ricerca strategiche, e l'università a questo punto invece si deve mettere a disposizione del sistema paese ed essere anche disponibile a sacrificare qualcosa della sua fantasia rispetto a dei progetti che il paese chiede di portare avanti. Quanto secondo lei deve cambiare anche il meccanismo post lauream? Spesso i giovani, infatti, dopo che si sono formati all'interno di università italiane, purtroppo sono costretti a cercare lavoro altrove. Guardi, qui faccio tre considerazioni. Uno, serve tanto orientamento in entrata. Quindi, ribalto il suo ragionamento, dico che la scuola secondaria superiore deve dare orientamento per consentire di fare una scelta motivata e ponderata del proprio corso di studi. Ma ci vuole altrettanto orientamento in uscita. Cioè, il discorso del placement, quindi del dare una mano a trovare lavoro, che è solamente qualche volta di alcune università monotematiche dedicate magari all'economia piuttosto che all'ingegneria, deve diventare un must di all'università. Non è più possibile pensare che l'università ti dia un titolo di studio e poi dopo ti dica a rivederci. Questo è una cosa impossibile. Bisogna anche lasciare libera la competizione fra le università e le università che sono migliori devono rilasciare dei titoli di studio che siano più pesanti. Nel senso che è ormai impossibile pensare che tutti i titoli di studio siano uguali, perché non sono uguali le modalità di studio. E non è il contesto, non è il nord versus sud, è il cosa, è il come viene data la cultura. Le faccio un esempio, con questo concludo, il dottorato di ricerca, che da noi viene vissuto quasi esclusivamente come titolo ad acquisire per fare una carriera universitaria di ricercatore. Questa è una cosa che al di fuori delle Alpi nessuno lo fa. Il dottorato di ricerca è il titolo indispensabile per diventare un dirigente in qualsiasi campo, nell'impresa, nella pubblica amministrazione. Il famoso PhD. Se tu non hai un PhD nel mondo anglosasso, ma nel mondo del resto dell'Europa e del resto del mondo, potrai diventare un ottimo funzionario, potrai diventare un ottimo quadro nell'industria, ma mai diventare un dirigente. Quindi noi dobbiamo cambiare, noi universitari, ma ci aspettiamo che la società ci chieda di cambiare. Un'ultima domanda riguardo al suo impegno futuro. Lei è in carica da tantissimo tempo, rimarrà ancora in carica appunto per un altro biennio. Dunque, io sono entrato dal Consiglio Universitario Nazionale nel 1997. Questo deriva dal fatto che da sempre, da quando ero ragazzo, facevo compiti di rappresentanza, ero rappresentante degli studenti, al liceo, alle scuole medie, quindi un po' una tradizione di fastidioso rompiscatola, diciamola così. Lì rappresentavo i ricercatori, poi sono diventato il professore associato, poi ordinario, e da otto anni sono presidente del CUNNO, del Consiglio Universitario Nazionale. Mi hanno appena rinnovato per un altro biennio e penso veramente che questo sia l'abbiegno di chiusura. A parte che vent'anni, che saranno fra due anni, va benissimo, è anche un bel numero. Dopo, intanto, visto che qualcuno dice che sono una delle persone che ne sa di più di sistema universitario, mi aspetto che il sistema mi dica che cosa devo fare. Quello che io sicuramente posso dire è che non mollerò quello che ho detto nelle precedenti domande, cioè di essere una persona che cerca di chiedere al sistema paese e alla politica come l'università può essere utile a questa stupenda nazione, perché noi abbiamo una stupenda nazione, uno stupendo parco giovani, chiamiamolo così, e l'università è il trasduttore, visto che sono endocrinologo, mi piace utilizzare questo termine, cioè quello che in qualche maniera fa l'ormone col suo recettore. L'università deve essere una specie di ormone che indica ai giovani come diventare degli adulti di alto prestigio in questa nazione. L'università deve essere una specie di ormone che indica ai giovani come diventare degli adulti di alto prestigio in questa nazione.